Anima di questo tennis park, Danilo, una vita dedicata allo sport e un inizio il tuo rapporto con il padel che ti ha tenuto insonne per un po'. Come mai ce lo racconti? Beh sì, dopo 30 anni e forse anche di più di tennis, approcciarsi a questa disciplina che per me era totalmente sconosciuta è stato traumatico. Prima del contratto, anche dopo, notti insoniti, proponiamo questa cosa, affoggia, chissà come risponderà. E anche dopo il mio primo test, diciamo che non è stata... Brillante. Assolutamente no. Evidentemente mi sbagliavo. Traumatico dal punto di vista di giocatore, ma assolutamente vincente come imprenditore. Ti ha dato ragione questa scommessa al momento? Ad oggi possiamo dire sicuramente che è stata una scelta, un intuito positivo, che sta dando dei riscontri. Foggia sta scoprendo questa disciplina. Siamo orgogliosi, sono orgoglioso di aver introdotto questa disciplina nella provincia di Foggia, perché ormai ne stanno venendo fuori un po' ovunque, in tutta la provincia, a breve anche nella città di Foggia. Grazie.